C'è tutti i piccoli patti capitati per casa su questo canale, io sono Oshii ed oggi siamo tornati con The Sandman Ok, dobbiamo andare in cima a tutto, a destra, ok Dimentico sempre che in questo gioco non si può correre Eeeh, ok, è questo? Sì, è questo, ok, ok, ok È una porta automatica, non si potrà aprire, ok Un lettore di carte Questa porta non si apre senza una password, ma non c'è Ah, senza un pass, ma io non ce n'è uno Tizio Impiegato... Ah, questa è una foto Impiegato del mese, ciacfile Che strani occhiali ha questo tizio Scusa, ma il buon lavoro non è Non è una buona scusa per essere così Ok, raga, I'll go away, I'll go away, I'll go away Ok, dove controllo qui la passo? C'è qualche altra macchina parcheggiata per caso? No, sì Eeeh, ok, non ho idea di dove devo andare Raga, non ho la più pallida idea di dove andare o cosa fare Ed è una costante, è in questi giochi Servono istruzioni più chiare Guarda, faccio il biglietto Signori, posso prendere la metro e andare Non c'era un tizio? Ah, sì Asp? Non è quello il tizio? Oh What? Posso mettere un codice? Posso mettere un codice? Ho qualcosa per mettere il codice? No Posso chiamare David? David Oh Anche l'orologio e il telefono è fermo Proprio a mezza Raga E' lo stesso numero di simboli Può essere che Tipo Perché c'è anche scrittore Minuti, secondi Vuoi vedere che è davvero questo? No, dai, non puoi Ok Io non vi faccio più domande Questo è il tizio dal lavoro di papà Il che significa che ha un pass Freghiamo i pass delle persone Ecco qua Pass degli impiegati Mi dispiace signor Chuck Ma lo prendo in prestito In debiti Oh, ma per caso c'è un modo di uscire Per di qua, no? Comunque di qua Ma se ne va andando Cioè, adoro il fatto che ogni tanto I personaggi di questi giochi Rubino qualcosa Se la freghino totalmente Nooo, la prendo solo in prestito Non è vero Non la restituirò mai So che non si apre Posso... Ok Ok Ho passato il pass Sono dentro Ok L'ascensore è bloccato Porte Cos'è sto coso? Alcuni documenti Per alcune misure di sicurezza Tutte le stanze si autobloccano alle 10 di sera E non possono essere... Non si può entrare dall'interno Quelli che rimangono per più di 10 minuti Devono avanzare una richiesta Per tenere il locchetto aperto Oh Quindi letteralmente Il padre non... Anche se fosse sveglio Non può uscire Giusto? Ok È chiuso Ok Questa qui è aperta E vedo un computer acceso Let's go È una mia foto Deve essere la scrivania di papà E il computer è ancora acceso Deve essere qui da qualche parte Forse nella stanza delle riunioni Oh Oh Che vecchia... Che vecchia foto da tenere in giro Deve essere da quando ero nell'asilo Perché è carina Let's go È quello tuo padre Ha un sorriso leggermente inquietante Papà, papà Ehi, ehi Ho disegnato un disegno Quando ero a scuola oggi Siamo io e te Vuoi vedere? Capisco Mi piacerebbe vederlo Ma mi dispiace Sono un po' stanco Ve lo puoi far vedere domani? È certo E poi oggi Sono andata a cercare A cercare Chupacabra con Regan Nella sua amica Ma non ne abbiamo trovato nessuno Ho detto alla professoressa Ha detto che I Chupacabra vivono soltanto al sud Che peccato Quindi voglio andare al sud E cercare Chupacabra Vieni anche tu con me Ok, papà? Scusa, Sofì Ma papà è davvero impegnato Con il lavoro Non possiamo andare In vacanza per un po' No, io voglio andare domani Vieni con me, papà Cattureremo Dei Chupacabra insieme Va bene, Sofì Possiamo andare a cercare Questo fine settimana Puoi aspettare fino ad allora? Urrà Non posso aspettare Lo so che letteralmente significa Non vedo l'ora Però Dai che ci sta col contesto Sta battuta Papà Hai bevuto del succo di frutta? Voglio anch'io del succo di frutta No, non ho bevuto nessun succo di frutta Il tizio sputa sangue Ha del succo di pomodora sulle labbra Sputa sangue Che bello! Giuro io non c'entro niente Ok? Giuro Giuro che non c'entro niente Sono totalmente innocente Forse Sa, io Ero contraria nel primo luogo Giustrare una bambina Con tutto quel lavoro strenuante Ah, che fratello tostardo Glielo dico Vuole fare onore alla mia Vabbè Sistene lo sarebbe praticamente Agognata Quindi cosa? Non c'è punto nel collassare Dall'ostenuarsi troppo per il lavoro Ha bisogno di darla a qualcuno E allora perché non t'apigli tu? Troppo vero E io ho già due figli Non posso prendermela Dove mangiano due mangiano in tre? Forse dovrei raccomandargli un posto Dieta Sofì Non ti ha vista lì Cosa è successo a papà? Il suo stomaco fa male? Ah, Sofì Tuo padre si è sforzato un po' troppo Quindi sì Il suo stomaco fa male Papà morirà Come la mamma Sforri Lo so che è triste Però non ce la faccio non ridere Ok? Ma Certo che no Se tu sei una brava bambina Sofì Sono sicura che tuo padre Si rimetterà presto Quindi gli stai dicendo Che praticamente Non è stata una brava bambina Quando la mamma è morta Davvero? Certo Ok Sofì Sei una brava bambina E non far preoccupare il tuo papà Ah E per questo che adesso Si esplisce tutto la povera bimba Papà 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 Mi dispiace papà Sono stata egoista E ti ho fatto preoccupare E ti ho fatto far male al pancino Non sarò più egoista No E non ti chiederò più per il gelato Prima di andare a dormire E mangerò i miei broccoli E il fegato E cipolle Oh mio dio Che schia E non piangerò quando non ci sei E imparerò a dormire da sola di sera Quindi Quindi per favore Rimettiti presto Papà Spero stia bene Devo trovarlo in fretta Let's go Andiamo avanti Non ci preoccupiamo Tanto se esce qualche mostro Ok Ci ho ripensato Andiamo avanti ora Ok Signore Papà Papà Cosa è stato? Sofì Perché sei qui? Sofì scappa È pericoloso qui Sta arrivando Eh Cosa sta arrivando? Se è di nuovo Un crooked man Io mazzo qualcuno Ma cos'è? Un drago? Eh? Cosa? Sofì scappa Papà Papà vieni con me Sfigati Ah ok Ok Ma Ma non siamo fatto manco in tempo a cliccare Corri 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 Odio questo genere in inseguimento Per il semplice fatto che sono un casino E che mi diverto Ok No 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 Teoricamente se sta situazione fosse reale Io già sarei finita tra le fiamme giusto? Ok scendi Ah papà Sofì scappa Esci dall'edificio No papà E ce l'ha buttata fuori Ah quello è sangue O sono i nostri capelli Non lo so Perché raga con tutti i capelli che ho io Immagino che Possano essere i capelli quindi Dio fa male Papà Ok erano capelli Eh Papà Papà E lei piange Povera E' un sogno Deve essere un sogno Sto avendo un terribile incubo Perché non riesco a spiegarlo Ombre rosse Strani soldati Un drago Sbuta a fuoco Fatemi svegliare Non voglio dormire Se questo è il tipo di sogno che avrò Preferiresti sognare fiorellini E fatine Papà dove sei? 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 Papà Papà E' PAS Ah Ah Lo dice quando clicco la porta Io ero convinta Possete dialogo C'è qualcosa per terra Questo è Uno dei miei denti E' caduto quando mi ha spuntato fuori Ma sei serio? Non mi dire che lo devo mettere sotto il cuscino Mi sembra Si è capace che me lo mette davvero sotto il cuscino Ok dove cacchio devo andare? Torno al Dove stava David? Dove sono andata? David non è qui ancora Ah ok era al parco Che? Un cavallo? C'era qualcosa lì Cos'era un cavallo? Tizia non Non starai sognando davvero Gli unicorni o i poni volanti Eh Perché è andato qua dentro? E' sbloccato Ok Io salvo Ok Dove devo andare? Sopra C'è la tizia che dorme Chi è sta tizia? Ok Una donna che dorme Ciao signora Addio signora Devo entrare qua dentro Sì credo Co Non può essere Non può essere Cosa? Ciao David Oh Sophie Ma What? Hai trovato tuo padre Sophie? Sì Ma è andato Andato Cosa intendi? Siete stati separati? Una cosa del genere Capisco Mi dispiace Non sono riuscito a trovare le tue amiche Mi chiedo dove possono essere Ho di nuovo cercato Per la città Ma non ho trovato nessuno sveglio Non c'è altra scelta Se non cercare più duramente Immagino Andiamo Sophie Dobbiamo trovare tuo padre E i tuoi amici Chi sei? Eh? Eh? Cosa intendi Sophie? Perché tutto questo all'improvviso? Sono David Ovviamente Bugiardo Perché? Perché David è nel suo appartamento Io non l'ho visto nel suo appartamento Sta dormendo Quindi chi sei? Non capisco cosa intendi Io sono io Non chiedermi chi sono Prima di tutto Dici che stavo dormendo lì Diciamo che sia la verità Perché non sarebbe quello il falso? Perché non lo è? Perché mi hai già mentito E solo questo mi dice Che non posso fidarmi di te Mentito? Che bugia Quando ti ho mentito? Stammi lontano Non ti avvicinare Chi diavolo sei? Perché Perché sembri David? Oh mannaggia Sembra che mi hai beccato Eh Non è stata colpa mia almeno Sono sicura che è stata Una sua interferenza Che dolore al corpo Vabbè sarebbe tipo che spina nel fianco Una cosa del genere Che Tu Tu hai fatto questo? Hai messo tu la città a dormire? Non sono stato io È stato il Sandman Il Sandman Intendi La fata che Se lo conosci no? Quello che usa la sabbietta per dormire Mette gli umani a nanna Beh Ha fatto dormire tutti quanti nel mondo Per sempre Ok Pensi che sia stupida Il Sandman Ha messo l'intero mondo a dormire Come se le fate esistessero Oh Adesso non mi credi? Dopo aver visto delle ombre Dei soldati Dei draghi Che sputano fuoco Effettivamente Sta cosa è la più sensata Come conosci del drago? Io non ti ho detto Perché ero io Eh Ok Cosa? Intendi? Che stai facendo tu Tutto questo? Già Io sono Ninna 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 Oh no Dove sta Ninna Oh Voglio vedere Ninna Oh Io sono Lullabai Una delle creazioni del Sandman Lullabai A filastrocchina Il Sandman Ha deciso di mettere tutti quanti a dormire per sempre Ha creato una sabbia del sonno speciale Differente da quella che usa di solito Ha fermato il tempo E l'ha buttato ovunque In tutto il mondo E gli umani hanno iniziato a dormire Mentre il tempo era fermo Ma non tutti Ci sono persone come te E... Beh Immagino di doverli chiamare insonni E può mai essere che in un'intera città l'unica persona a soffrire di insonni è lei Quindi ci sono altri svegli E qui e là Intorno al mondo Quindi il Sandman ha creato un piano per loro E ha creato me A filastrocchina A Ninna Nannina Quelli che non possono dormire Non sono facili Sono arrabbiati e impazienti E come metti queste persone a dormire? Gli chiarisci i sentimenti Cancella le loro preoccupazioni Garantisci i loro desideri Soddisfali E questo è il mio lavoro E quindi Se questo è il tuo lavoro Perché stai facendo vivere la statizia un trauma? Se qualcuno non riesce a dormire Per la preoccupazione del loro lavoro Io gli canto una Ninna Nanna Per un progetto di successo Una donna ferita dal romanticismo Una filastrocca Per far cose con qualcuno Per mettere insieme a qualcuno Come cacchio dovrei tradurre In italiano non frate del genere I bambini in luoghi di guerra Terrorizzati dai colpi di pistola Gli canto la Ninna Nanna Che la guerra è finita E poi possono dormire pacificamente Eh Ok fermati là Quindi Quella roba che mi hai fatto Vede? È la mia Ninna Nanna Per te E che cacchio Nanna è? Non metterebbe nessuno A suo agio È una roba da incubo Dovresti essere più onesta Con te stessa Sophie Non ti sentivi ferita Dai tuoi amici Dicendo che eri preoccupata Però mai occupandotene Non volevi condannargli Come dei bugiardi Non volevi vendetta sulla ragazza Che una volta era una cara amica Ma adesso te bullizza Non volevi che venisse Che ammazzata di fronte a tutti Ma pure no Smettila Non volevi che la compagnia Che si è presa tuo padre Andasse in fiamme Che così ti prestasse attenzione Mi sembra un paio di cose Giuste pure Come pensiero Che una persona possa avere Ma talmente esagerate Che mi viene da dire Allora se mi vuoi realizzare un sogno Fai una bella filastrocca Dove tu te ne vai a schiattare Ok? Smettila! Oh Sophie Non avresti dovuto far nulla Soltanto guardarli soffrire come volevi Se l'avessi fatto Adesso Saresti capace di dormire pacificamente E ma se non vuole dormire Non l'hanno a fare dormire Dov'è l'uomo dei sogni? Cioè il Sandman Perché l'ho chiamato l'uomo dei sogni? Beh tecnicamente è l'uomo dei sogni quindi Perché lo chiedi? Lo fermo Mettere tutti a dormire Non è una barzelletta E non glielo lascerò fare Prendi la mia mano Sophie Cosa? Vuoi sapere dove sta il Sandman giusto? E ti porto Davvero? Stai Realizzando che lo voglio fermà Non sei dalla sua parte? Io non posso andare contro i tuoi desideri E il mio È il mio lavoro garantirli Ok Ce lo dici te? Hai paura? Certo che no Portami dal tizio Che lo andiamo ad ammazza male Yeah No però seriamente Quello era un cavallo un unico Ok cos'è sto posto? Cosa? Dove siamo? È qui che vive il Sandman? Eh Il tizio è andato Beh È tempo di andare da soli no? Beh Molto bene Andrò Da sola Come al solito no? Come al solito E beh raga Io direi che con questo Possiamo anche concludere Noi ci vediamo prestissimo Col prossimo episodio Bai 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 Grazie a tutti.